ABC, Abruzzo Blockchain, è la piattaforma digitale per le piccole e medie imprese messe in rete da Confindustria Chieti Pescara con la partecipazione della Camera di Commercio di Chieti Pescara e il suo PID, Punto Impresa Digitale. Progettata nel dicembre del 2019, poco prima che la pandemia sconvolgesse gli equilibri socio-economici mondiali, l'obiettivo della piattaforma digitale è la tutela della qualità del prodotto attraverso la certificazione immutabile del blockchain che diventa sinonimo di trasparenza, sicurezza e tracciabilità. Uno strumento valido anche per la lotta alle contraffazioni che danneggiano il made in Italy soprattutto nei settori dell'agroalimentare e della moda, come spiegano i presidenti di Confindustria Silvano Pagliuca e della Camera di Commercio Gennaro Strever. Il blockchain è una piattaforma tecnologica, quindi c'è della tecnologia, che è molto utile per evitare ad esempio situazioni di frodi soprattutto in alcuni ambiti come quello agroalimentare. E quindi è un passaggio culturale anche verso la trasparenza che in questo momento è ciò che i consumatori si aspettano. Ma è anche un modo per internazionalizzarsi utilizzando il made in Italy 100% e mettendo ovviamente al centro la qualità dei nostri prodotti, in uno specifico ovviamente parliamo dei prodotti abruzzesi, all'insegna del buono, del bello e del fatto bene. Questa certificazione, diciamo questa trasparenza quindi può aiutare ovviamente anche il consumatore che si trova chiaramente a dover acquistare prodotti certificati? Sì, tecnicamente noi parliamo di notarizzazione, cioè in poche parole tutto ciò che viene notarizzato e viene messo all'interno di una piattaforma è in qualche modo come se fosse scritto sulla pietra, quindi è immutabile ed è una caratteristica appunto della blockchain e quindi è un ulteriore passo avanti verso la trasparenza. Noi come Camera di Commercio abbiamo sposato insieme a Combi Industria questo progetto perché è sicuramente un progetto di digitalizzazione importante in quanto si va a costituire una piattaforma dando accesso a tutte le aziende che ne richiedono per collegare i condatti, per mettere in evidenza la tracciabilità dei prodotti e quant'altro. Anche perché il Paese Italia dopo questa pandemia avrà sicuramente una ripresa economica brillante e questo è un progetto di cui io sono molto soddisfatto di parteciparci.